Pallone interessante in verticale, c'è spazio da sfruttare in verticale, ci mette la testa, palla in fondo da metere, due gol di scarpe tra loro gli avversari adesso. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati, grande rapidità di esecuzione. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.